Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma ci sono 5 km di coda per un incidente in galleria al km 309 e 700 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna coda a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandiccia e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 coda a tratti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 in direzione Sud coda a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e un km di coda alla barriera di Rosignano. Coda a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano verso Genova. In A15 verso la Spezia coda a tratti tra Ulla e l'allacciamento con la 12. In FIPILI coda a tratti tra Montopoli-Valdarno e Ponte del Rest verso Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!